Buongiorno, buonasera, Marco Pt. Allora, questo è un video inerente alle ripetizioni nelle vidiuti. Mi scrive un certo Reni, o Reni. Allora, ho capito il consul... L'italiano sarà francese questo ragazzo, l'italiano un po' stentato. Comunque questo signore, questo dolce Reni, scrive Menzer dice di non andare oltre le 12 ripetizioni e di non stare sotto le 6. Dimmi perché, spiegami perché. Io accorcio un po' il messaggio, ma il senso mi pare sia questo. Allora, la risposta è molto semplice, caro Reni. Rispondo a te, ma prendo anche un discorso più ampio che può interessare ad altre persone. Allora, ti spiego subito come stanno le cose. Mike Menzer non ha detto quello che tu sostieni. È molto semplice. Purtroppo, in questo settore c'è una specie di tradizione orale per tramandare questi dettagli tecnici, come una volta le antiche tribù col passaparola. Speriamo che in tempi prossimi si arrivi magari a una forma scritta per comunicare. Comunque, no, sto scherzando. No, allora, non è vero quello che sostieni, ma non che sia colpa tua, ti sei basato su informazioni magari appunto tramandate senza riferimenti scritti, quindi ti rispondo per venirti incontro. Allora, pagina 104 dell'ultimo libro di Mike Menzer. Numero di ripetizioni, che è il paragrafo 3 di pagina 104. Questo paragrafo qui. Numero delle ripetizioni. Eseguite 6 barra 10 ripetizioni fino al cedimento muscolare su tutti gli esercizi elencati tranne panca inclinata da 1 a 3 ripetizioni. Panca inclinata da 1 a 3 ripetizioni. Parallele da 3 a 5. E se riuscite a farle col vostro peso corporeo, aggiungete peso, va bene. Poi, polpacci in piedi, standing calf press, quindi, da 12 a 20. Da 12 a 20. Fate le contrazioni isometriche nel modo che ho già spiegato. Questi punti importanti sono riferiti al primo protocollo, quello che si trova nella pagina precedente, 103 a 102. Allenamento 1. Quindi, caro Reni, Mike Manzer, non è vero che rifiutasse di andare sopra le 12 ripetizioni e di scendere sotto le 6. In panca inclinata e in dip alle parallele scendeva tranquillamente fino a una ripetizione, quindi un'alzata. Nel caso dello standing calf press arrivava tranquillamente a 20 ripetizioni. Questo è un po' il discorso. Poi, nel protocollo numero 2, nella tabella 2, quella che si chiama tabella di consolidamento, lui sostiene che siano più delle linee guida, in buona sostanza. Gli addominali qua, a pagina 117, descrive addirittura 20-25 ripetizioni per i crunch per gli addominali. Qua lascia un po' più libero l'atleta, però comunque Mike Manzer può tranquillamente utilizzare, cioè secondo Mike Manzer in questo suo ultimo libro, che è quello definitivo, si può tranquillamente andare sotto le 6 e oltre le 20. Quindi utilizzare questo tipo di metodo, questo heavy duty, può essere utilizzando, spaziando attraverso tutto il range di ripetizioni. Ripeto, il più grande problema di Mike Manzer è sempre stato quello inerente alla gestione della frequenza. Lui stesso racconta che il parametro che lo ha sempre mandato più in crisi è sempre stato quello della frequenza. Parla dei suoi clienti, dei suoi allievi, delle consulenze telefoniche, di ragazzi che avevano dei platore, erano bloccati, e non riusciva a gestire proprio il parametro della frequenza. Sul volume era molto sicuro, sull'intensità non aveva dubbi. E' arrivato poi a... Ecco, qua c'è un capitolo molto interessante, pagina 72, per capire meglio la frequenza. Ci è dato una soluzione che secondo me era sbagliata. Qua si chiede a pagina 77 anche quella frequenza era sbagliata. Un uomo abbastanza lacerato dai dubbi, e dubbi mica da poco, perché la frequenza secondo me è il parametro base al quale bisogna subordinare il volume e non viceversa. Poi l'intensità sarà anche una costante, per carità, ma... Il discorso è questo. Un metodo... Allora, questo libro è scritto benissimo, ci tengo a dirlo. Mike Manzer era uno scrittore, un produttore eccezionale. Era molto convincente anche, infatti ha portato alla deriva migliaia e migliaia di ragazzi che si sono affidati a metodi come questo, a metodi come questo, per avere al massimo come risultato uscire dal sovralenamento per poi bloccarsi di nuovo, secondo me. Comunque, il produttore è eccellente. Un libro scritto benissimo. Poi Mike Manzer era uno che aveva molto chiari concetti di base della fisiologia muscolare. Studiava con medici, con accademici. Il suo mentor era un medico, Arthur Jones, quindi Mike Manzer, aveva un approccio molto scientifico alla divulgazione. Purtroppo, secondo me, come ripeto, il suo sistema aveva delle falle. Ecco. Quindi, questo è il video risposta per René. Quindi, il mio consiglio, con la massima umiltà, è quello magari di documentarsi attraverso i libri, oppure, come hai fatto tu, giustamente, chiedere a un consulente. Cosa che, secondo me, può portare a dei chiarimenti che fanno bene un po' a tutti. Bene, direi che è tutto. Marco Pitti, out.